Già pregiudicato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, furti e reati contro il patrimonio, Salvatore Scogna Miglio è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata perché è ritenuto responsabile di associazione a delinquere di stampo mafioso con affiliazione al clan Gionta e concorso in duplice omicidio. Secondo le indagini, Scogna Miglio, 31 anni, avrebbe partecipato il 22 aprile del 2007 all'omicidio di Francesco Paolo Genovese e Antonio De Angelis, due camorristi affiliati al clan Gallo Cavalieri. Il cartello criminale in quegli anni era entrato in conflitto con i Gionta per il controllo delle piazze di spaccio del territorio. Uno scontro armato tra le due fazioni in cui persero la vita sempre nello stesso anno anche altri affiliati come Vincenzo Amoretti del clan Gallo Cavalieri e Massimo Gallo appartenente a una famiglia legata ai Gionta Valentini. Per questi omicidi poi finirono agli arresti il secondo genito del boss Valentino Gionta Pasquale ed altri nove fedelissimi del clan. L'arresto di Scogna Miglio è figlio della stessa indagine. Secondo l'accusa, Gnappetto, questo il suo soprannome, ha partecipato al raid punitivo in cui persero la vita i due pusher del clan rivale Genovese e De Angelis.